Nome? Jacopo. Cognome? Segre. Età? 22 anni. Soprannome? Yaki. Ruolo? Centrocampista. Sei un centrocampista con licenza di attaccare. Cosa ti scatta in testa dopo che segni un gol? Euforia, gioia. Con chi dividi la camera in albergo durante i ritiri pre-partita? Spesso con Bertagnoli e alcune volte ultimamente con Sauli Weissanen. È vero che hai legato molto con Lorenzo Dickmann? Sì, un gran giocatore e una gran persona soprattutto. Chi dei due offre più spesso l'aperitivo? Lui. Sei più da film o serie tv? Film. L'ultimo film che hai visto? Serie tv e La Casa dei Papel. Al cinema invece è meglio un film romantico, drammatico, thriller o una commedia? Thriller. Un film che rivedresti anche cento volte è? Troi. Sei fidanzato? Sì. Come si chiama la tua fidanzata? Alessia. La prima cosa che ti ha colpito di Alessia? Essere solare. Come l'hai conquistata? Col mio sguardo. Facci vedere il tuo sguardo. Musica. Scegli hip-hop, rap, trap, rock, pop, musica classica? Reggaeton. La canzone che non può proprio mancare nella tua playlist? I've been missing you. Dai, facci sentire qualche parola. No, ma non lo so, è l'inglese così. I've been missing you. Dalla musica alla lettura. Come siamo messi? Bene, dai, me la cavo. Jacopo, sei anche uno studente universitario, giusto? Sì. A quale facoltà sei iscritto? Scienze motori. Esami svolti? Per ora 7. Media voto? 26. Voto migliore preso? 30. Visto che tra gli esami che hai dato c'è anche statistica, ti chiediamo, ma se dovessimo farti qualche domanda sulle materie studiate, che percentuali di risposte esatte prevedi? Momentaneamente non lo so. Allora ti mettiamo alla prova. Preferisci chimica o biologia? Biologia. La riserva maggiore di energia chimica proviene da A. Proteine animali B. Grassi vegetali C. Carboidrati Sì, ma domanda... Rifala che non l'ho ascoltata. Cioè, oh, intervista così... La riserva maggiore di energia chimica proviene da A. Proteine animali B. Grassi vegetali C. Carboidrati Carboidrati I ribosomi sono adibiti alla produzione di A. ATP B. Proteine C. Glicolipidi E glicoproteine Bella domanda, questa è difficile. Non saprei rispondere. ATP? Ma cos'è un esame di università? Il rivestimento delle cellule si chiama A. Sarcolemma B. Plasmodesma C. Membrane plasmatiche Plasmodesma Membrana... Membrana... L'ultima, dai. Quando non giochi a calcio o studi, cosa ti piace fare? Fare l'amore. Tre personaggi famosi con cui passeresti una serata? Eh... Megan Fox Melissa Satta Beckham Gran giocatore Un po' di consigli Un tuo pregio? Carisma Un tuo difetto? Permaloso Qual è la cosa che proprio non sopporti? Eh... Litigare fra amici Una cosa di cui proprio non puoi fare a meno? La mia famiglia Segui le partite di calcio in tv? Sì, tutte Chi preferisci come telecronista? Fabio Caressa Sandro Piccinini Pierluigi Pardo O Maurizio Compagnoni? Fabio Caressa Fai tu la telecronaca del tuo primo gol con il Chievo Verona Dickman Sull'esterno Mette la palla in mezzo Garitano La palla a Vignato Vignato stoppa Palla limite Segre 1-0 No, era 2-1? Ahahahah Il mio padre che era in tribuna La prima cosa che fai al mattino è l'ultima prima di dormire Al mattino faccio la pipì Prima di dormire guardo le notizie sul telefono Ti piacciono gli animali? Sì, molto Cane o gatto? Cane Secondo te gli alieni esistono? No La squadra più forte al mondo è? Barcellona Entriamo nello spogliatoio Chi è il compagno più simpatico? Non vale Dickman Più simpatico? Mi imbarazza questa Devo pensarci Il mitico Davide Brivio Più forte? Giaccherini Più bello? Io Più social? Esposito Qual è stata la tua vacanza più bella? Ibiza Se non avessi fatto il calciatore cosa avresti fatto? Modello Cucina, dolce o salato? Dolce Qual è il tuo piatto preferito? Carbonara Ma tu sai cucinare? Sì Che piatto ti riesce meglio? Mi piace carbonara e tutte le tipologie di pasta le faccio molto bene Social media? Facebook, Twitter o Instagram? Instagram La più bella foto che hai mai postato su Instagram? Primo gol nei professionisti La foto che vorresti pubblicare a fine stagione? Festeggiare con la squadra in Serie A Jacopo, abbiamo finito Ora sappiamo un po' più di te Ti sei divertito? Molto Saluta i tifosi Ciao a tutti Ci vediamo domenica Grazie a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti